Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale Si continua con la playlist in Midnight Fight Express Questo fantastico gioco in visuale isometrica uscito a fine agosto In questo episodio siamo nel Nightclub Ma prima di iniziare vi ricordo che se volete fare acquisti su Amazon Potete sempre utilizzare il mio link affiliato sempre sotto in descrizione lo troverete E se volete abbonarvi ad Amazon Prime potete farlo scansionando il QR Code in alto a sinistra E vi darò l'opportunità di avere 30 giorni di utilizzo gratuito Si parte con Nightclub E le musiche sono sempre molto belle Devo dire Le musiche sono veramente belle Questa che cazzo va Ok Che bouncers Mi inghiacciano il manganello retrattile Babyface Rompiamo io il culo Vabbè Vabbè Pato Oh Affanculo Ban 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 Vai col manganello retratti la minchia Sbaba Vai così Detto solo l'ho preso? Sì Via, c'era anche lo sgabello da lanciare Vai, apri qua Sì, sì, sì Quindi? Hai visto? C'è babyface Stui, porca troia Troc'è il drivers Va Vai giù di rabbia Va, va Va, va Ah, pezzo di merda Oh, figlio di puttana Vieni qua Va, va, va Adesso, minchia No, pezzo di merda Minchia Ha preso il buttafuori Stui Bam, bam Sbam 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 Vabbè, ora poi ci parto Oh Cazzo vai, coglione di merda Stui Va Bu Esplode la terra Oh Pa, pa Pezzo di merda Stam Giù col dente d'oro E via Vai Scendi qua Dai, belle però Ah, figo Belle però le Le invitazioni Dai, carino Stui Stui Babbà 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 Vas-y Ah, fanko No Vabbè Cosa è questo Che cazzo va Oh, lancio tutto Sbam Così Bam, bam, bam Così Le nicoglioni Stiu Stiu Babbà Babbà Così Sbam Stiu Cacciano il coglione via Get over here Vieni Vieni, vieni Bastardo Ti Tacchiavo col manganello Su cazzi tu Vai Oh Un altro stronzo Cosa c'è? Cosa c'è? C'hai paura Stronzo Vai, ci parte con la rabbia Bu 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 Madone Vi scasso Dr. Maker Chiamano altri bouncer Dai, rompetevi il culo Vabbè Vi aspetto Merda Guarda la gente già che vola Saltaci giù E vai Vai così Sbam 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 Oh, pezzi di merda Vai a fare Ma bella questa mossa C'è qualcosa Per utilizzare L'environment Stiu Cazzo vuoi fare Coglione Bu No, pezzi di merda No, pezzi di merda Oh, porco due Vai a fare In culo Va Stiu Sbam 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 Così Saltaci Guarda questo Un cazzo Un cazzo fa tipo Oh, fa la magarena Questo fa la magarena Guarda, guardalo Che cazzo di gente Dai, però Gli effetti luci sono belli Solamente belli Vai, livello completato Stavamo Sfondata La discoteca Che cos'è? La scoteca Che a livello S Madonna Beh, dai Cosa ho sbloccato Ho sbloccato qualcosa Ah, ok Voglio il Power Wave Bullet Questo qua Che fa l'onda d'urto Sbloccalo Perfetto Ok, ragazzi Se questo video vi è piaciuto Mettete pure un bel like Un bel pollice in su Iscrivetevi al canale Per portare altri Di questi contenuti Fantastici E vi ricordo Che se dovete fare Acquisti su Amazon Potete utilizzare Il mio link Che trovate Sempre sotto in descrizione Link affiliato E se volete abbonarvi Ad Amazon Prime Potete farlo Scansionando il QR code Che troverete in alto A sinistra Per usufruire 30 giorni di utilizzo Gratuito Seguitemi nei miei social network Tra cui Instagram Telegram E Twitch Dove streamerò Quasi ogni giorno Sempre il link sotto In descrizione E vi do appuntamento Al prossimo video Ciao a tutti